Buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti alla prima edizione del TG6. Terminate le vacanze natalizie questa mattina, si è tornati sui banchi di scuola. A Pescara tra richieste di DAD e assenze di professori già si registrano alcuni problemi, specie all'interno degli istituti superiori. Diversa invece la situazione nelle scuole primarie e secondarie. Ce ne parla Stefano Recanati. I ragazzi hanno un grande, grandissimo senso di responsabilità. Rientro tutto sommato tranquillo all'istituto comprensivo 1 di Via Einaudi a Pescara. Al primo suono della campanella, dopo le festività natalizie, non si sono riscontrate particolari difficoltà. Anche se l'attenzione per l'aumento dei casi Covid-19 in città tiene alta la barra dell'attenzione. Il governo è forte del nuovo decreto anti-Covid, mentre la comunità scientifica prevede il ritorno di tutto il sistema in DAD nel giro di poco tempo. Noi a seconda dell'ordine di scuola dobbiamo mettere in quarantena le classi, se si verificheranno dei casi all'interno del contesto scolastico. Noi dirigenti scolastici non credo che abbiamo delle competenze sanitarie tali da poter fare così delle valutazioni. Questa è la normativa. Noi applicheremo questa normativa sperando che chi ha partorito queste misure abbia indovinato. Preoccupa invece la situazione nel liceo classico. In mattinata già diverse le richieste di attivazione per la didattica a distanza, mentre la positività di alcuni docenti ha lasciato scoperte intere classi. La preside Antonella San Vitale. L'assenza dei docenti è problematica per l'organizzazione e l'abbiamo rilevato solo da questa mattina, perché oggi si tornava in servizio pieno. Faccio un appello, proprio dobbiamo unire le forze, tantissime le forze di tutte le realtà che hanno la responsabilità sulla sicurezza per garantire la scuola in presenza, altrimenti da sola la scuola non ce la fa, anche perché, vi ripeto, l'ordinamento ci impone che prima di dieci giorni non possiamo chiamare supplente, la difficoltà per i medici la fanno di fare i certificati, di prevedere il periodo, per cui stamattina alcune classi erano scoperte, per cui è fuori discussione che la scuola è in presenza, ma dobbiamo unire tantissime forze in modo sinergico per permettere che la scuola continui a essere un servizio efficiente in presenza. Oggi sono state riaperte le scuole dopo aver effettuato lo screening su oltre 93 mila studenti abruzzesi, pari a oltre il 7,5% dell'intera popolazione regionale, consentendo così una ripresa delle lezioni in sicurezza dopo le vacanze natalizie. Avere effettuato lo screening si è dimostrata una scelta lungimirante, ha commentato il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, essere riusciti a isolare più di 2 mila ragazzi positivi ma sintomatici, con i dati attuali di diffusione di contagiosità, in particolare della variante Omicron, significa aver impedito che in pochi giorni avrebbero prodotto oltre 10 mila contagi. E nel pieno della quarta ondata questa mattina i vertici dell'ASL di Vasto Lanciano Chieti hanno illustrato la situazione epidemiologica e i risultati degli screening che ha riguardato in questa provincia 35 mila studenti. L'ASL ha messo un leggero ritardo poi nell'analisi dei tamponi e per questo a breve aprirà un nuovo laboratorio analisi. La situazione epidemiologica Chieti è in provincia, i risultati dello screening per gli studenti che si sono tenuti nell'ultimo weekend sono stati al centro della conferenza stampa che hanno tenuto i vertici dell'ASL di Vasto Lanciano Chieti questa mattina alle nostre spalle nell'ex palazzina Sebi, sede della direzione generale dell'ASL, conferenza stampa presieduta dal direttore generale Thomas Scheil. La domanda tra tamponi per verificare la positività e tamponi di guarigione e riammissione in comunità sono molto di più per cui stiamo stipulando la convenzione con un altro laboratorio e appena affermato noi aumenteremo anche i drive-in per dare risposta alle numerose domande che ci sono ma chiaramente raccomando anche chi non ha avuto sintomi dopo un tampone positivo di rifare l'antigenico invece di intassare il drive-in per molecolare. Abbiamo effettuato circa 35.000 test di screening con un tasso di positività di circa il 3% hanno partecipato 65 comuni della provincia di Chieti e altri 10 parteciperanno il prossimo fine settimana che sono quei comuni in cui i sindaci avevano fatto le ordinanze di chiusura e quindi di riapertura la settimana successiva per cui abbiamo concordato di spostare lo screening di una settimana. Una cosa importante da dire è che abbiamo aumentato appunto gli slot sui singoli centri vaccinali quindi è estremamente importante che le persone che si presentano a fare la vaccinazione siano dotati di prenotazione è importante da dire che sono stati aumentati anche gli slot pediatrici quindi attualmente in piattaforma abbiamo più di 3.000 slot pediatrici quindi anche i nostri bambini trovano risposta nei nostri centri per quanto riguarda invece gli over 50 che hanno appunto l'obbligo vaccinale insomma con la problematica dal primo febbraio stiamo organizzando degli open day vaccinali dedicati esclusivamente a questa popolazione quindi lì sarà l'unica diciamo così le uniche occasioni in cui ci si può presentare senza prenotazione chiaramente se si è la popolazione target quindi persone over 50 con l'obbligo. Noi abbiamo in questo momento 84 pazienti in ospedale tra Chieti e Vasto di cui 9 in rianimazione in rianimazione 7 su 9 sono non vaccinati per cui i più gravi sono i non vaccinati rimane confermati che il vaccino è la prevenzione migliore per non prendersi un Covid grave 38 mila gli studenti che oggi sono tornati a scuola nel Terramano nel fine settimana il 66% della popolazione scolastica è stata sottoposta a test antigenici su 5.115 tamponi sono risultati positivi al Covid 116 alunni le operazioni di screening sono state coordinate dal comune di Teramo che ha potuto contare su una grande disponibilità degli operatori sanitari e di tanti volontari Tania Bonici Castelli Sono 38 mila gli studenti terramani che rientrano a scuola dopo le festività natalizie perplessità e timori vengono espressi apertamente da molti dirigenti scolastici che avrebbero preferito una riapertura posticipata visto l'alto numero di allunni positivi ma anche per l'assenza del personale in parte malato o in quarantena intanto si sono appena concluse le tre giornate di screening alla popolazione scolastica teramana promosse dalla regione Abruzzo e organizzate dal comune di Teramo le operazioni si sono svolte al Palace Capriano nelle palestre delle scuole medie Giovanni XXIII di San Nicolò a Tordino e Molinari di Teramo I tamponi totali effettuati sono stati 5.115 di cui 116 casi positivi pari al 2,26% dei test eseguiti L'affluenza registrata è stata del 66% della popolazione scolastica attesa secondo il calendario concertato con le dirigenti scolastiche Dei 116 casi positivi 30 frequentano la scuola primaria 18 le medie 68 le superiori Nell'ambito dello screening sulla popolazione scolastica in Abruzzo nel fine settimana complessivamente sono stati eseguiti 93.328 test antigenici i positivi relativi sono stati 2.356 pari al 2,5% l'adesione invece è stata del 60% Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto anche a nome del Lanci Abruzzo di cui è presidente ha espresso un sentito e caloroso ringraziamento a quei medici di medicina generale agli operatori sanitari ai volontari delle associazioni di protezione civile ai dipendenti comunali che si sono resi disponibili ed hanno reso possibile l'effettuazione dei tamponi mostrando altissimo senso civico al servizio della collettività L'impegno dei comuni è il risultato essere un elemento decisivo per la riuscita dell'iniziativa Continuiamo su questo filone perché campagna vaccinale screening sulla popolazione scolastica sono stati i temi trattati in conferenza stampa dal Partito Democratico di Pescara i DEM sono scettici sull'apertura di un secondo hub presso il Palazzo Fuxas dove sono presenti già alcune classi del liceo Marconi Nei prossimi giorni invece potrebbe esserci un consiglio comunale straordinario per capire le cause dello stop di 48 ore del pronto soccorso Vediamo il servizio Quando si è chiuso a settembre un hub vaccinale che funzionava senza avere una soluzione alternativa che non c'è stata per mesi sinceramente non si è fatta una scelta idonea ai bisogni della città dopodiché si è scelta una soluzione obiettivamente inadeguata quale quella della stazione di Pescara Porta Nuova con un hub che è chiuso nei festivi che funziona per sole 9 ore al giorno il che ovviamente mostra una inadeguatezza rispetto al proliferare la diffusione della pandemia e anche al bisogno dei cittadini che vogliono avere la somministrazione della terza dose per la loro salute per garantire la salute degli altri e anche per rispettare le norme che il governo l'interno ha emanato quindi una inadeguatezza evidente nella campagna vaccinale il comune vuole portare vuole aprire un secondo hub vaccinale lo vuole fare nel cosiddetto palazzo Fuxas sì, anche lì adesso vogliamo vedere le carte perché noi ovviamente all'opposizione non sappiamo esattamente quali sono i termini di questo accordo come si vogliono organizzare il 31 dicembre il presidente della regione Marsilio fa un'ordinanza con cui prevede che la scuola sarebbe aperta il 10 e che il 7, l'8 e il 9 si sarebbe dovuto fare uno screening adeguato questo non è avvenuto a Pescara anzi inizialmente il comune di Pescara ad accorso con l'azzo pensava di fare lo screening delle scuole superiori solo nella giornata di oggi successivamente si è provveduto a farlo partire da sabato quindi si è perduto un giorno si sono concentrate tutte le scuole tutti gli studenti in pochi punti si sono formati delle file molto lunghe tutto questo ha vanificato lo spirito inoltre c'è il fatto veramente singolare che nella città di Pescara non è stato aperto lo screening al personale docente ai collaboratori scolastici cioè a tutti coloro che lavorano nella scuola come gruppo consigliare in comune del Partito Democratico appunto siete pronti anche a un consiglio straordinario per capire quali sono state le interruzioni così di lavoro del pronto soccorso di Pescara noi adesso vorremmo chiedere una convocazione un consiglio comunale straordinario per fare il punto sul funzionamento del pronto soccorso che si è fermato per ben due volte per 48 ore non abbia il personale idoneo non sia in grado di far fronte a questa emergenza vogliamo comprendere quali sono le ragioni perché non si può buttare la croce addosso ai medici che lì lavorano noi riteniamo che ci siano dei forti errori organizzativi da parte della ASG la cronaca la squadra mobile della questura di Teramo ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare del divito di avvicinamento alla coniuge e dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa emessa a carico di un uomo teramano dal GIP presso il tribunale di Teramo su richiesta del PM Zani il provvedimento è scaturito a seguito della denuncia presentata dalla donna alla fine del mese di dicembre scorso al culmine di una serie di episodi di maltrattamenti commessi dal marito spesso in stato di ubriachezza con violenze e minacce come documentato dai numerosi interventi della volante della questura di Teramo effettuati presso l'abitazione dei coniugi su richiesta della vittima sin dal mese di marzo 2021 l'indagato oltre a non potersi avvicinare la moglie dai luoghi frequentati dalla stessa mantenendo una distanza di almeno un chilometro e non poter comunicare con lei in alcun modo non potrà avvicinarsi in egual misura neanche ai genitori della donna cambiamo argomento parliamo delle autostrade a 24 a 25 che collegano Abruzzo e Lazio slittato il temuto maxirincaro sui pedaggi continua il braccio di ferro tra governo e strada dei parchi riguardo all'approvazione del PEF il piano economico finanziario scaduto nel 2015 il mancato accordo sarebbe sui costi dei lavori di manutenzione intanto indagini chiuse la procura dell'Aquila ha chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone tra cui Carlo Toto governo e strada dei parchi non si mettono d'accordo e a pagarne il prezzo nel senso letterale del termine potrebbero essere i cittadini il piano economico finanziario che riguarda le A24 e A25 è scaduto nel 2015 a 7 anni di distanza nonostante le sollecitazioni dell'Unione Europea una sentenza del Consiglio di Stato e un commissario Maurizio Gentile che si è dimesso a dicembre l'accordo tra le parti non è stato raggiunto nel frattempo sugli utenti pende una spada di Damocle e quella dei rincari dei pedaggi di circa il 34% il costo delle autostrade sarebbe dovuto aumentare dall'inizio del 2022 ma a seguito di due emendamenti a firma anche della parlamentare aquilana Pezzopane il rincaro è slittato al prossimo primo luglio motivo del contendere sarebbe il conto dei lavori di manutenzione per la messa in sicurezza antisismica nella legge di stabilità del 2012 sono previsti oltre 6 miliardi di euro di lavori di cui circa un terzo a carico di strada dei parchi inoltre un altro miliardo dovrebbe arrivare col piano nazionale di ripresa e resilienza è su questo anche che la discussione sul PEF si intraccia si blocca perché il concessionario con la vecchia concessione avanza delle prerogative ma deve anche il concessionario fare la sua parte e questo è un po' il punto su cui ci si arena strada dei parchi è una società privata e quindi fa gli interessi della società privata il governo deve usare gli interessi dei cittadini quindi la soluzione migliore va adottata e rapidamente perché i cittadini non abbiano né aumenti di pedaggio né ancora e ulteriori fastidi nella percorrenza di queste importantissime tratte io mi auguro che si possano trovare soluzioni diciamo di pace non di guerra perché poi quando si aprono i contenziosi possono appunto drammatizzarsi le situazioni la pezzopane smentisce la voce circolata nelle ultime settimane secondo cui strada dei parchi avrebbe avviato l'iter di rescissione della concessione in vigore fino al 2030 non mi risulta ha detto la parlamentare ma in caso di revoca della concessione la società avrebbe diritto a un cospicuo indennizzo intanto sono state concluse le indagini sulla mancata manutenzione dei viadotti inchiesta che coinvolge proprio strada dei parchi di cui si occupano le procure di Pescara Chieti Sulmona e L'Aquila quest'ultima ha già chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone tra coloro che andranno a processo anche Carlo Toto patronna dell'omonimo gruppo che controlla strada dei parchi riaprirà riaprirà a breve dopo 10 anni il tunnel pedonale di Chieti che collegherà l'area del terminal bus con Largo Barbella tra qualche giorno l'opera sarà operativa per il caso di dirlo e a fine mese entrerà a pieno regime una giornata importante quella di oggi per la città di Chieti l'annuncio dell'amministrazione comunale dell'apertura del tunnel pedonale che collega la zona di via Gran Sasso alla parte alta della città di Largo Barbella una giornata dunque importante con questo tunnel pedonale per il primo tratto e poi che permetterà ai cittadini e ai turisti di salire nella zona alta del centro con degli ascensori che riaprirà tra qualche giorno lo hanno detto il sindaco Diego Ferrara e l'assessore Rispoli e con grande soddisfazione riusciamo a portare diciamo a compimento quest'opera iniziata nel 2010 e che stava rimanendo una cattedrale chiusa nel deserto abbiamo fatto degli sforzi in mani sia di tipo burocratico che economico per portare a termine il compimento diciamo di questa di quest'opera che sgraverà tantissimo la mobilità a Chieti oltre a tanti altri progetti che abbiamo da oggi per i prossimi giorni la teat dei servizi che gestirà l'impianto del tunnel sarà insieme da Orem per fare tutti quanti gli ultimi corsi di aggiornamento per quanto riguarda il dipendente e per poi rimettere in funzione e ridare alla città quest'opera importantissima la città arriverà a pieno regime speriamo nei primi giorni di febbraio quindi secondo me nella metà di febbraio questa opera importantissima sarà fruibile per la città di fatto con questa opera andiamo a risolvere in parte il problema nella mobilità con l'accessibilità all'interno della città stessa con parcheggi con collegamento all'interno del centro storico venerdì scorso prima seduta del consiglio provinciale dell'Aquila in attesa di conoscere le deleghe ai nuovi assessori il presidente Caruso assicura varranno i principi di competenza e territorialità andiamo in prosecuzione di quel gran lavoro svolto negli anni precedenti 4 anni di mandato già carico di programmazione spesa per gli anni a venire e che sarà integrata e rafforzata da tutto quello che sarà il contributo che arriverà dai consiglieri di maggioranza eletti e in generale dalle scelte del consiglio provinciale questo è nei fatti e sarà insomma un qualcosa che darà quelle risposte tanto attese di cui una parte importante è già stato fatto si proseguirà in questa direzione sì dunque le deleghe è il lavoro che sto completando in questi giorni da qui a qualche giorno avranno anche il perimetro delle competenze che gli attribuirò almeno sulla base di un principio che mi sento già di annunciare quello della territorialità di espressione dei consiglieri ma anche delle competenze di quello che è un ragionamento logico che appartiene sicuramente alla copertura di settori e di aree geografiche importanti per le quali ci dovrà essere sempre la sentinella che in questo caso il consigliere adeguatamente attrezzata per rispondere tempestivamente a tutto e ora lo sport con il calcio di Serie C non si è ancora entrati nel vivo del mercato di Lega Pro vista anche la lunga sosta a causa Covid per Pescare e Teramo iniziano i primi movimenti anche se le uscite sono più complicate delle eventuali entrate facciamo il punto con Jacopo Forcella la pausa forzata a causa Covid e il ritorno in campo posticipato a sabato 22 non è comunque riuscita ancora a far decollare il mercato di Pescara e Teramo ancora le prese con le riflessioni su quali e quanti obiettivi mettere nel mirino per rinforzare gli organici a disposizione di Auteri e Guidi il Delfino ha messo a segno il colpo di risio per il centrocampo il fedelissimo di Auteri si allena da qualche ora con la truppa Bianca Azzurra in un reparto quello mediano che subirà una profonda trasformazione rispetto a quella della prima parte di campionato interesse per il giovane Emmanuel Ghiaboa del Perugia poco utilizzato finora soltanto 6 le presenze con il grifo il calciatore l'Atalanta proprietario del cartellino valuteranno le proposte che giungeranno sul tavolo non solo il Foggia tra le interessate alla classe 2001 ecco anche il Pescara che potrebbe riportare Cabasci in riva all'Adriatico dopo tanti anni oggi a Como e ha vestito la maglia del Delfino fino alla stagione 2013-2014 nella lista dei partenti ci sono sempre Valdifiori e Rizzo che hanno avuto apprezzamenti finora ma non si è ancora arrivati alla fase cruciale delle trattative così come davanti per Galano e Bocic sull'esterno pugliese tante voci ma ancora nulla di fatto offerto al Benevento che cercava Roberto Insigne la strega risposto no grazie su Valdifiori c'è l'interesse forte del Siena soprattutto se Bianco Denri dovessero veder partire Pezzella che piace in via alla regina considerando anche che il reparto è molto affollato per poter dar l'assalto vero a Valdifiori è ipotizzabile che il Siena provi a fare qualche uscita cadetteria nella quale speranzità che parole di Sebastiane al portale Rosa Nero I Love Palermo non cambierà per un'altra squadra di C se non sarà serie B l'esterno Mancino potrebbe trovare collocazione all'estero altro giocatore in uscita è Frascatore che dopo l'interessamento proprio del Teramo sembra essere entrato nel mirino del Monopoli prestito di Teramo ufficiale lo scambio De Grazia Rillo con il Piacenza l'esterno Mancino ha fermato con gli Emiliani e il centrocampista fa il percorso apposto tornando in Abruzzo dopo due stagioni e mezza altro scambio quello tra Chiere Mateng che va alla Fermana e Mordini che arriva in Biancorosso sempre con la formula del prestito andando a colmare proprio la partenza di Rillo per dare più sostanza ad una corsia che in questo momento vede arruolabile il solo Andreca davanti c'è un solo e unico obiettivo che si avvicina tornerà da Seregno in Campania prima di essere girato al Diavolo i giorni di stop daranno più tempo per riflettere su quello che manca e soprattutto per valutare come arrivare agli obiettivi il Pescara così come il Teramo oggi torna al lavoro Biancazzurri che sabato hanno messo minuti nelle gambe e alleggerito il carico di lavoro di questi giorni in attesa della ripresa di campionato con l'allenamento congiunto di sabato col Pineto per il Teramo seduta nuovamente anticipata da un'ulteriore serie di tamponi per verificare lo stato di salute del gruppo squadra che presenta al momento sette componenti positive oltre ai tre elementi che hanno avuto contatti stretti Cambiamo disciplina Gaia Realini è la nuova campionessa italiana del ciclocross under 23 la ragazza pescaresi ha inseguito a lungo e centrato il tricolore che le mancava nel suo palmarès grazie a lei l'Abruzzo entra per la prima volta a diritto nell'albo d'oro dei campionati italiani di ciclocross ma è nessun atleta abruzzese era riuscita a conquistare in ambito agonistico categoria internazionale UCI la maglia più ambita nel periodo invernale in forza alla compagine lombarda della Selle Italia a Guerciotti dallo scorso anno con sede a Milano dei patron Paolo Alessandro Guerciotti ma solo per svolgere attività di livello nazionale ed internazionale tra autunno ed inverno Gaia Realini è stata autrice di una condotta di gara senza sbavature andandosi a prendere la vittoria nella categoria donne under 23 ora la neotricolore è attesa a un altro illustre banco di prova a fine gennaio in occasione dei mondiali con la nazionale italiana del commissario tecnico Daniele Pontoni negli Stati Uniti l'obiettivo è andare a caccia di una preziosa medaglia e ora il volley terzo successo consecutivo per la Secortona che batte anche il Cantù primo squillo in trasferta e rilancia ancor più le ambizioni salvezza in un weekend nel quale causa Covid tutte le altre abruzzesi hanno forzatamente riposato Sergio Zappalorto in un turno in cui non hanno giocato né a Bapineto né Altino né Alba né Chieti né Teramo Gata Pescara 3 ed annunziare al Ceteas Montesibano ecco il miracolo si eco che quasi vicina alla perfezione è infilato il terzo successo consecutivo il primo in trasferta rifilando uno strameritato 3 a 0 al Cantù lavando l'ingiusto stesso passivo dell'andata 3 set persi ai vantaggi stavolta i parziali a 18 22-16 in terra Canturina non parlano certo di equilibrio equip di lanci impeccabili a muro ben 9 vincenti e muri difesa straordinari percentuali eccellenti in attacco ancora uno show del Carioca Pessoa 21 punti con uno splendido 67% benissimo tutti insomma a partire dalla conferma De Paola e Molinari il resto solo da applausi squadra compatta lucida in ricezione perforante davanti con un magnifico 58% offensivo del collettivo un'altra impavida insomma che lascia sperare parecchio pure domenica prossima una pausa che non ci voleva poi recupero a Castellana e altra trasferta a Cuneo a caccia di ulteriori ora possibili imprese il citato De Paola sarà ospite dell'undicesima puntata di Pallavolè che per due settimane andrà in onda di giovedì il 13 e il 20 gennaio sempre alle 21 per la cronaca ha giocato oltre l'ortone anche il Paglieta sconfitta senza fortuna sul campo della vice capolista Genzano con un 3-1 combattutissimo peccato davvero quanto all'Abbapineto in arrivo nelle prossime ore il recupero importantissimo a Grottazzolina vertice da difendere a tutti i costi e questa era la nostra ultima notizia i servizi che avete visto potete rivederli sul nostro canale youtube e sul sito tv6.it l'informazione tornerà questa sera alle ore 19 grazie e buon pomeriggio e buon pomeriggio grazie a tutti